Ci si aspettava qualcosa di più dalla Vibonese nella sfida casalinga contro il fanalino di Codanoto. Ne viene invece fuori uno 0-0 che non accontenta affatto e che poteva addirittura sfuggire il rosso-blu che nel corso dei 90 minuti rischiano più volte lo 0-1. Un passo indietro rispetto alle ultime uscite, un passo indietro dopo le due vittorie consecutive contro Nisse e Acireale. Una frenata alla vigilia dell'apertura del mercato che potrebbe, si spera, rimischiare le carte in casa Vibonese. I rosso-blu sembrano comunque partire col piglio giusto e chiudono i siciliani nella propria area. Al sesto Calambai manda alto da buona posizione, mentre due minuti dopo Cibelli non arriva sulla tiro-crossa di Marasco. Sul campo pesante della Luigi Razza si fa vedere anche il noto con questa grande conclusione di Terquini. Sarao si rifugia però in angolo. I siciliani sfiorano addirittura il vantaggio al 22esimo con merito che impegna ancora Sarao in una nuova deviazione in corner. E il noto a fare la partita è a provarci con maggiore decisione. Al 44esimo il destro di Elbaria finisce sul fondo. Nella ripresa la svolta che ci si attende non arriva. Vibonese spenta e senza idee, noto più propositivo ma niente di più. Ci prova Marasco al terzo minuto sugli sviluppi di un corner. Girata però bloccata a terra da Vezzani. Da qui in poi la Vibonese sparisce dal campo. Fa qualcosa in più il noto con merito che alla 23esimo conclude però sull'esterno della rete. Soda prova a cambiare in corsa. Dentro da D'Alta al posto di Bruzzese e Spanò che rientra dopo l'infortunio al posto di Gori. Sostituzioni che però non cambiano l'andamento del match. Nei minuti che restano succede davvero poco con 0-0 che sembra andare bene, chissà poi perché, ad entrambe. Il gol non arriva e a lui Girazza si chiude così una partita davvero misera di emozioni. Grazie. 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 Grazie.